Buondì, oggi i militanti di Napoli Capitale hanno con un blitz futuristico e significativo fatto indossare alla statua di Garibaldi la sua maglietta, la maglietta di Juventino. Non è una trovata pubblicitaria, è una trovata significativa, è un blitz futuristico significativo perché Napoli riparte solo se ci saranno uomini e donne che amano Napoli e il Napoli e lavoreranno per essa che ricorderanno gli splendori del passato e la statua di Garibaldi ritorni nel Piemonte in quelle risaie che si bonificarono grazie ai soldi che lo Juventino Garibaldi rubò alle casse del Banco di Napoli. Ritorniamo ad essere orgogliosi del nostro passato, Napoli deve ritornare ad essere Capitale Napoli Capitale, via la statua di Piazza Garibaldi, via Garibaldi che sia Piazza Totò, Piazza De Filippo, Piazza Federico II Viva Napoli, Viva Napoli Capitale!